e vai altri lavori in corso stiamo aggirando per scala e anche qua poi ci sono i cartelli i tabelloni luminosi che dicono che stanotte tra Pescara Nord e Atri Pineto tutta l'autostrada sarà chiusa l'ennesima area soggetta a sequestro e ancora qua carabinieri in trasferimento sull'altra carreggiata sono già tutti in coda mare sullo sfondo corriamo qua 3 tonnellate e mezzo sul piadotto per lavori 100 metri di distanza teniamo la distanza Lanciano sei che là siamo ancora vista mare adesso non posso più farlo indire il mare è là fine dei lavori la corsa continua questa andatura perché tanto qua c'è il divieto di sorpasso mi rosano bene qui davanti a un certo punto in salita dice stop non ce la faccio altro tratto il lavoro è in corso non ce la faccio anche qui sistemazione del viadotto da sotto e riprendiamo la corsa altri lavori in corso so che adesso siamo in buona compagnia ragazzi ok adesso tocca attenzione attenzione possibili rallentamenti per lavori grazie dell'avviso qui abbiamo ancora un'area soggetta a sequestro a sequestro state andando a la città rilevata a 63 orari poi il ragazzo ha rallentato e qui finisce il tratto qui prendiamo la corsa qui non ci sono lavoro in corsa con la carcassa della Jaguar d'epoca sopra siamo in discesa Casal Bordino, Vasto Nord 236 km a Pari Nord due ore e mezzo di guida da quando sono partito praticamente da Loreto era lì Loreto questa fretta e noi adesso cominciamo la salita due chilometri di salita rallentiamo pure perché tanto lo sloveno l'ho già visto anche prima ogni salita rischio di tamponarlo quando siamo quasi in cima quindi adesso andiamo più piano ancora continuano a esserci divieti di sorpasso qua anche se comunque un paio ci hanno sorpassato senza tanto né quanto ok ragazzi a dopo e va destringiamoci ancora un po' un po' Grazie. Abbiamo finito di restringerci. E vai, ci torniamo a divertire. Abbiamo finito di restringere. Abbiamo finito di restringere. Abbiamo finito di restringere. Grazie a tutti 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 Quando feci il giro in Slovacchia nel 2015 Andai anche lì Grazie a tutti Procediamo